oggi giornata di martedì giornata di marte giornata di azione giornata di slancio giornata di coraggio una giornata particolarmente importante per i segni di terra vediamo sinteticamente l'evoluzione planetari più significative di oggi e poi per quale motivo segno per segno fra un po se ti è piaciuto questo video metti un like attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale piacere di essere qui con te su astro love il mio canale dedicato all'astrologia all'oroscopo giornaliero e le discipline olistiche vediamo cosa non raccontarci gli astri per oggi martedì 6 dicembre 2022 iniziamo da questa evoluzione della posizione della luna sempre presente nel segno del toro come la giornata di ieri ma quest'oggi si fa sentire maggiormente per i nati la seconda e l'ultima decade quindi ancora questo senso di desiderio di appagamento quanto mai fisico quanto mai tangibile questo senso veramente di godere pienamente la vita si fa sentire sicuramente in senso positivo per il segno del toro appunto per i nati la seconda e l'ultima decade analogamente tutto sommato questo senso di desiderio di appagamento può anche sciogliere un po quella modalità un po più asciutta un po più essenziale che riguarda la vergine in un senso positivo quindi questa soddisfazione per ciò che è concreto per ciò che è tangibile che viene così assunto che viene vissuto con questo senso di buona soddisfazione sicuramente anche per i nati le ultime due decade di capricorno questa luna di oggi continua a essere così emotivamente appagante nel vero senso della parola per quanto riguarda invece i segni che risentono in maniera così un po dissonante di questa presenza della luna ancora per lo scorpione leone l'acquario un umore un po' alterato una tendenza nei rapporti personali a prendere le posizioni non soltanto rigide così arroccate su certe posizioni magari anche in maniera incongruente ma anche questo desiderio veramente di prendo tutto io quindi questo senso veramente di possessività che potrebbe così emerge di maniera abbastanza prepotente per quanto riguarda appunto i nati le ultime due decade dello scorpione e anche tutto sommato in parte per i segni dell'appartenente a segno del leone per quanto riguarda l'acquario invece verso una modalità un po così che stona fra virgolette rispetto al tuo consueto modo di porti che così può risultare un po bizzarro rispetto a questa consueta apertura nei confronti di persone situazioni quindi una luna che potrebbe così infastidirti in tal senso facendoti così apparire in solitamente rigide rigido e poco propensa prospensa a dar spazio agli altri come normalmente si è in grado decisamente di fare quest'oggi però l'aspetto più importante che possiamo già anticipare tutto sommato anche se si verificherà tutto sommato in serata e questa evoluzione per quanto riguarda il modo di comunicare l'aspetto più mentale l'aspetto più concettuale l'aspetto più di concentrazione l'aspetto più di cerebralità per così dire questa evoluzione astrale di mercurio alle 23 08 di oggi si fa sentire con questo passaggio dal segno del sagittario al segno del capricorno ovviamente dalla tarda serata ma questo si farà sentire marcatamente nei giorni a seguire quindi sicuramente una chiusura ancora per quest'oggi della modalità così molto espansiva molto esplicita molto ottimista tipica di questo sagittario che si farà sentire ancora per in atto l'ultima decade anche del segno del leone e dell'ariete e conseguentemente così questo aspetto liberatorio della serata da questa modalità non del tutto equilibrata di porsi per il segno dei gemelli del segno dei pesci del segno del sagittario quindi una modalità diversa che dalle 23 08 porta a essere così maggiormente pragmatici per così dire non più questa ottimismo to cure questo ma sì va bene facciamo così senza nessun problema ma anzi uno spirito molto analitico molto prudente molto pragmatico quindi una modalità di pensare portata alla valutazione attenta di tutti gli elementi con un senso anche di rallentamento pur di procedere in maniera più che mai coerente questo si fa sentire in senso positivo sicuramente dalla serata per il segno di capricorno ovviamente nel cui segno transita mercurio in senso positivo sicuramente anche soprattutto per la vergine e anche per il segno del del toro sicuramente per la vergine è un cambio di registro importante dato che appunto per i nati l'ultima decade c'è questo aspetto liberatorio da questo mercurio che era un po dissonante addirittura per i nati la prima diventa appunto come detto decisamente positivo viceversa per quanto riguarda il segno del cancro il segno della riete il segno del della bilancia c'è questa modalità mentale che potrebbe così risultare un po non dico bloccante però sicuramente rallentante essenzialmente per il segno della riete portato a una certa impulsività un procedere tutto sommato a fare prima ancora di pensare quindi un mercurio potrebbe risultare appunto per i nati la prima decade della serata di oggi nei giorni a venire sicuramente un po fastidioso analogamente per cui la necessità di ponderare ma in senso così sciolto della bilancia questo mercurio mentalmente potrebbe risultare nella comunicazione nella comunicatività un po fastidioso e anche per quanto riguarda quell'approccio tutto sommato intuitivo più percettivo del del cancro questo mercurio più pragmatico più fisso e rigido potrebbe un po stornare nella a partire della serata di oggi ma entriamo nel vivo e vediamo i dettagli in più segno per segno regala le persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti iniziamo da te grintoso ariete che va incontro ancora una giornata decisamente positiva con questa capacità da parte tua di essere anche tutto sommato non dico rallentato ma più fermo più fisso su certe posizioni cioè parti come sempre con questa sorta di incisività che ti contraddistingue ma sei in grado anche di rallentare per come dire anche goderti ciò che hai fatto goderti quella meta che con quello slancio con quella carica aggiuntiva che ti caratterizza sei riuscito a raggiungere sempre positiva la presenza del sole se appartiene la seconda decade con un buon teno energetico uno spiccato entusiasmo che ti consente veramente di andare al di là delle situazioni consone anche aggiungere tutta una serie di stimoli aggiuntivi che possono risultare molto interessanti per te dalla giornata di oggi nella tarda serata cessa questo favore di mercurio per quanto riguarda la tua concentrazione la tua comunicatività e nei prossimi giorni ci potrebbe essere così a livello mentale qualche difficoltà essere così sciolto sciolta nel tuo modo di porto nel tuo modo di pensare nel tuo modo di elaborare le tue idee sempre ottimale la vita sentimentale se appartiene all'ultima decade con questa venere decisamente ottimale gioiosa e positiva per questi rapporti regala alle persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti per te costante e coerente toro ancora una giornata ottimale con evoluzioni astrali anche significative anche se non immediate ma nel proseguo della tarda giornata sicuramente ottimale questa presenza della luna tua alleata se appartiene alle ultime due decadi che enfatizza questo tuo desiderio veramente di trarre massimo appagamento da tutto ciò che veramente tangibile anche tutto sommato classicamente la buona tavola che quest'oggi è come se fosse ancor più consueto al centro della tua attenzione quindi questo senso di gaudenza questo senso di buon appagamento emotivamente quest'oggi se appartiene alle ultime due decadi può spiccare ancora più del consueto per il resto la rapidità dell'evoluzione delle astri in campo sono significative se appartiene alla prima decade nella tarda serata infatti questo arrivo di mercurio che si farà sentire più marcatamente ovviamente nei prossimi giorni riesce a spostare il tenore della tua comunicatività del tuo modo di pensare di esternare le tue prospettive su una modalità molto più affine al tuo modo di porti quindi con questo senso di attenzione per tutto ciò che è quanto mai solido concreto costruttivo e con una sorta di calma prima di poter procedere attraverso una valutazione più che mai attenta di ogni elemento regala alle persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti continuiamo con te frizzante intelligente gemelli che va incontro una giornata nell'insieme positiva con delle evoluzioni astrali che risultano decisamente molto importanti anche se l'effetto si farà sentire nei giorni a seguire sicuramente positiva questa presenza della luna se appartiene alle ultime due decadi che ti consente veramente di essere maggiormente stabile su certe posizioni con una modalità che può magari non appartenerti eccessivamente ma che può risultare estremamente soddisfacente per te quindi il fatto di soffermarti in maniera più costante più ferma più decisa su certe situazioni che possono anche appagarti può essere un'esperienza emotivamente appunto molto positiva per te per quanto riguarda la tua forma generale ancora in leggero calo soltanto se appartiene alla seconda decade con questo sole che potrebbe così farti apparire non così centrato e centrata come di consueto e per quanto riguarda la vita sentimentale sempre buona ripresa di certi equilibri nella relazione cui più tieni se appartiene le prime due decadi mentre prenatì l'ultima questa presenza di venere potrebbe ancora farsi sentire ma in tarda serata che c'è l'evoluzione astrale più significativa con questo imminente allontanamento di mercurio finalmente non più dissonante per te nei prossimi giorni un buon ripristino del tuo equilibrio a livello di concentrazione regala alle persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti per te sensibile ed emotivo cancro ancora una giornata nell'insieme positiva in cui emotivamente particolarmente se appartieni alle ultime due decadi ti senti veramente perfettamente a tuo agio anzi è proprio questa capacità veramente di trarre grande giovamento da tutto ciò che ti sei impegnato e impegnata a realizzare a costruire realizzare questo in questo senso veramente di presenza di costanza di appunto ottimo appagamento che deriva da tutto ciò che veramente quanto mai tangibile quanto mai sicuro parola magica per te quindi giornata decisamente positiva a livello emotivo che ti consente veramente di uscirtene con questo sorriso di grande soddisfazione per quanto riguarda la vita più privata più intima sempre una modalità molto sciolta molto gioiosa di vivere l'azione qui più tieni e per quanto riguarda la tua comunicatività e la tua concentrazione ci potrebbe essere con appunto dalla tarda serata un momento un po delicato soprattutto se appartiene alla prima decada con questo arrivo di mercurio che nei prossimi giorni potrebbe farsi sentire più marcatamente specie in ambito professionale ma anche nel privato inducendoti così a non essere così sciolta e sciolto nel tuo modo di esternare i tuoi punti di vista regala alle persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti andiamo avanti con te maestoso e carismatico leone che va incontro ancora una giornata di graduale miglioramento ma ancora con qualche nuvoletta all'orizzonte almeno per qualcuno qualcuno di voi per quanto riguarda il tuo umore c'è un buon segno di ripresa se appartiene alla prima decada e viceversa se appartiene all'ultime due c'è ancora questa presenza lunare un po infastidente quindi quella tua tendenza molto aperta molto generosa per così dire potrebbe quest'oggi risultare decisamente molto smorzata e anzi potresti risultare un po possessivo e possessiva specie nei rapporti personali con le persone a cui più tieni nei cui confronti così potresti risultare veramente un po rigido un po rigida nel tuo modo di porti sicuramente ottimale la tua forma generale ancora se appartiene alla seconda decade con questo sole propizio che ti consente veramente di avere un tenore energetico all'altezza delle tue aspettative e con cui veramente riesci a raggiungere qualunque obiettivo con grande carica e grande ottimismo grande gioia grande armonia anche nell'ambito di vita più intima e personale se appartiene l'ultima decade con questa venere ancora propizia per quanto riguarda invece la tua concentrazione ancora quest'oggi fino alla tarda serata sempre positivo e ottimale questa presenza di mercurio un po in tutti gli ambiti sia privati che professionali regala le persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti per te metodica e razionale e vergine ancora una giornata decisamente interessante di ottima ripresa e di graduale miglioramento sotto vari profili per quanto riguarda la tua emotività il tuo umore è sicuramente positiva questa presenza della luna se appartiene alle ultime due decadi che ti consente veramente di sentirti perfettamente tuo agio e anche perché no di lasciarti andare di goderti i frutti del tuo lavoro del tuo impegno con un senso positivo quindi quasi un senso di prender possesso di tutte queste situazioni in un senso gaudente in un senso veramente appagante per te per quanto riguarda la tua forma generale sempre in ripresa se appartiene la prima decada è ancora ottimale se appartiene l'ultima un sole non troppo favorevole potrebbe così alterare il tuo perfetto centramento se appartiene alla seconda decade anche per quanto riguarda la vita più intima e personale se appartiene le prime due decadi sempre in allontanamento e quindi in ripresa i buoni equilibri nelle relazioni a cui più tieni mentre venere potrebbe così renderti non del tutto soddisfatta soddisfatta di questi rapporti se appartiene all'ultima quest'oggi però c'è questa evoluzione astrale di mercurio che in tarda serate e sicuramente nei giorni a seguire rappresenterà un sensibile miglioramento della tua concentrazione regala alle persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti continuiamo con te estetica e creativa bilancia che va incontro una giornata decisamente ottimale con energie in campo che rappresentano per te una opportunità di così goderti la vita ancora più del consueto in un senso quanto mai fisico quanto mai tangibile quanto mai così essenziale anche nella vita più intima e personale c'è comunque questa possibilità di vivere dei bei momenti con ripeto con pieno appagamento ottima la forma generale sempre se appartiene alla seconda decade con questa presenza del sole che ti consente veramente di apparire dare sostegno le persone con grande slancio con grande entusiasmo trasmettendo appunto in maniera decisamente molto positiva questo tuo atteggiamento sicuramente estremamente positivo per quanto riguarda la vita più intima e personale sempre importante questa presenza di venere specie se appartiene l'ultima decade mentre per quanto riguarda la tua concentrazione le tua modalità di comunicare sempre con questa espansività e questa positività da questa serata potrebbe così subentrare questa presenza non troppo favorevole di mercurio che appunto si allontana dalla posizione positiva che ha avuto fino a quasi tutta la giornata di oggi per magari inclinare leggermente quella che la tua perfetta concentrazione regala alle persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti per te strategico e inconscio scorpione ancora una giornata dai connotati delicati in cui questa luna non troppo favorevole potrebbe farsi sentire specie se appartiene alle ultime due decadi quindi certe tue prerogative caratteriali così un po spigolosi un po non dico aggressiva ma proprio un po pungenti una certa tua tendenza impuntarti su certe posizioni questo senso di eccessiva possessività che nei confronti di chi ti vuole bene potrebbe emergere così prepotentemente appunto specie se appartiene alle ultime due decadi un tenore generale ottimale ti caratterizza se appartiene alla seconda decade con questo sole ancora favorevole e per quanto riguarda la possibilità di vivere con scioltezza con gioia con anche un pizzico di spensieratezza la vita più intima e personale questa venere se appartiene all'ultima decade continua a colorare con questo tipo di energia la tua vita più personale per quanto riguarda la tua modalità espressiva dei tuoi delle tue prospettive delle tue idee sempre positiva ottimale ancora per quest'oggi la presenza di mercurio se appartiene all'ultima decade ma in tarda serata potrebbe subentrare una modalità comunque positiva per te se appartiene alla prima decade di essere un po più essenziale più ponderata e ponderata e magari non lasciate andare a questo grande entusiasmo nell'ultimo periodo nel tuo modo di esprimere i tuoi pensieri regala le persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti andiamo avanti con te ottimista e avventuroso sagittario che va incontro una giornata decisamente positiva con energia in campo ancora per quest'oggi decisamente le tue alleate anche con l'opportunità perché no di dar peso a situazioni che possono risultare normalmente per te un po abitudinarie però questo oggi possono essere presi in serie considerazione da te essere vissute con un senso di positivo appagamento appunto per quanto riguarda la tua forma generale sempre ottimale se appartiene alla seconda decade con questo sole tuo alleato che riesce veramente enfatizzare queste tue prorrogative di apertura di entusiasmo di capacità di coinvolgere chi ti è vicino con una spiccata positività anche per quanto riguarda gli ambiti più intimi e personali sempre importante questa presenza di venere se appartiene nell'ultima decade che ti consente veramente di vivere con un senso di gioiosità di spontaneità di anche appagamento questo lato della tua vita più personale nell'ambito della contencentrazione nel tuo modo di esprimere i tuoi pensieri quest'oggi si allontana in serata alle 23 08 esce dal tuo segno mercurio ma ancora durante la giornata riesce comunque essere entusiasmante per così dire nel tuo modo di esprimere le tue idee e nei prossimi giorni ci si farà comunque questa positività di mercurio ma comunque in una maniera un po' differente regala alle persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti per te pragmatico e concreto capricorno ancora una giornata nell'insieme interessante e positiva evoluzioni astrali molto rapide che risultano di assoluto rilievo per te sicuramente positiva questa presenza della luna se appartiene alle ultime due decadi che ti consentono veramente di sederti in un senso metaforico anche in un senso fisico per goderti tutta una serie di contesti di situazioni che ti sei impegnato e impegnata fino ad ora a costruire e realizzare quindi questo senso di troneggiare sui risultati dei tuoi impegni risulta quanto mai così appagante per te nella giornata di oggi sempre ottimale la tua forma generale se appartiene la seconda decada e con questo senso di velato ottimismo che riesce così a scrollarti di dosso quel senso di prudenza che normalmente ti caratterizza e anche per quanto riguarda gli ambiti di vita più intima e personale questa presenza di venere se appartiene l'ultima decada ti consente veramente di vivere con un buon appagamento con una buona gioia con un buon snaccio questi ambiti di vita più personale questo oggi nell'ambito del discorso di concentrazione di espressività dei tuoi punti di vista importante questa evoluzione di mercurio che alle 23 08 della sera entra nel tuo segno colorando i tuoi pensieri di quel pragmatismo ancora più spiccato rispetto al consueto regala le persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti proseguiamo con te frizzante e anticonformista acquario che va incontro una giornata tutto sommato un po' delicata ma con evoluzioni astrali che possono così rappresentare una sorta di cambio di registro per quanto riguarda certi tu approcci sia nel privato che in ambito professionale buona ripresa per quanto riguarda il tuo umore rispetto alla giornata di ieri con questo allontanamento della luna che invece si fa sentire più marcatamente quest'oggi se appartiene alla seconda e all'ultima decada e quindi ancora tendenzialmente una modalità un po' anomala di rapportarti con le persone che ti sono vicine potrebbe così esternare se appartiene appunto alle ultime due decadi con la tua tendenza magari a soffermarti anche in maniera abbastanza rigida su certe posizioni che porti avanti così anche in maniera non del tutto congruente e anche in maniera differente rispetto a quel tuo approccio sempre molto morbido molto aperto che normalmente ti caratterizza ottimale la tua forma generale se appartieni alla seconda decada e grazie a questa presenza del sole che continua a darti un buon tenore energetico e sempre molto gradevole e molto gioiosa la vita sentimentale se appartiene alla ultima decade con questa venere decisamente favorevole evoluzione della tua comunicatività nell'arco della serata da una modalità più espansa a un modo un po' più essenziale di porto nei confronti dei concetti e delle persone regala alle persone che ami o regalati la speciale gift card di astro love distinguiti concludiamo con te fantasioso e profondo pesci che va in conto una giornata decisamente interessante con evoluzioni astrali di assoluto rilievo per te per quanto riguarda il tuo umore sicuramente positiva questa presenza della luna specie se appartiene alle ultime due decadi che ti consente di fissare dei punti fermi di avere dei punti di riferimento importanti che emotivamente ti consentono veramente di sentirti molto meglio molto più certo e certa appunto del posizione della situazione in cui ti ritrovi a vivere per quanto riguarda la tua forma generale in costante ripresa se appartiene la prima decada è ancora ottimale se appartiene l'ultima mentre se appartiene la seconda si fa sentire questa presenza del sole che potrebbe così anche a te non farti sentire così centrata e centrata quanto vorresti anche per quanto riguarda la vita più intima e personale la presenza di venere si fa sentire ormai non più per i nati la prima e la seconda decada ma soltanto per i nati l'ultima con questo senso magari di non perfetta obiettività non perfetta soddisfazione nell'ambito sia di un rapporto già in essere sia nella possibilità di creare uno nuovo l'evoluzione astrale più importante di oggi però è questa presenza di mercurio che da dissonante dalla serata di oggi diventa addirittura a te propizia se appartiene la prima decada con un senso più costruttivo nel tuo modo di porti a livello di idee e di valutazioni planetarium in arrivo a dicembre direi che anche per oggi è tutto ti ringrazio di essere stata e sei stato qui con me su astro love se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un mi piace se vuoi metterci dei commenti saranno molto graditi se vuoi attivare la campanella per notifiche se vuoi iscriviti al canale per non perdere nessun aggiornamento e anche se vuoi sostenere il canale cliccando sul link che trovi nel box tostante ti ringrazio ancora ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero sempre qui sul mio canale ogni mattina alle ore 7 e ti ricordo che da oggi hai modo anche di leggere l'oroscopo annuale per il prossimo anno il 2023 ti ringrazio ancora nuovamente e ti auguro che gli asti vengono su tutti i passi e ti aiutino percorre il tuo cammino in consapevolezza ciao 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 Regala alle persone che ami o regalati la speciale gift card di Astro Love. Distinguiti. Planetarium. In arrivo a dicembre.